Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati in un nuovo video vi ricordate che nel video dell'incubatrice vi avevo detto che mi regalavano 7 uova di guallina nana per metterle nell'incubatrice e vedere se ne scevano i pulcini cambio di programma, mia mamma oggi è andata al supermercato e ha trovato queste 12 uova di guaglia e quindi ha deciso di comprarle allora, visto che sono 12, io ne prenderò solo 7 e le altre vedrò di regalarle, non lo so, mia mamma, mia nonna, comunque e quindi in tutti i mesi di agosto proverò a farle incubare dentro l'incubatrice e quindi farò una serie lunga come ho già detto nel prossimo video queste, voi faccio vedere meglio le uova ecco qui, com'è che sono sono molto piccole, ecco, ma non le tolgo dalla confusione perché non vorrei che poi si rompano allora, siamo arrivati a, mi pare, 17 iscritti se arriviamo ai 20 iscritti farò un altro speciale tutti questi speciali in un solo giorno, un bel po', ecco, mi devo organizzare bene quindi farò uno speciale con, non un animale questa volta, ma con una persona che, con una persona, ecco, che è pure lui animale, farò vedere gli animali chi è ecco, questa è la di piccola, mi piace il video, tchau